Ok, allora io dirò poche cose nella, diciamo così, doppia veste in cui mi presento, perché da un lato sono appunto parte del Movimento Scout, dall'altro mi occupo professionalmente di politiche europee, di diritto dell'Unione Europea nella Confcommercio Milano e comunque ovviamente parlo a titolo personale sia in un senso che in un altro. Allora, certamente questo appello non potevo non sottoscriverlo prima di tutto come studioso delle cose europee e diciamo così fra virgolette come patriota delle cose europee, anche perché sembra quasi fatto apposta, nel senso che mette proprio in evidenza quello che è, io lo definisco un po' il bug dell'architettura costituzionale, europea, cioè c'è troppo sbilanciamento a sfavore di quelle che sono le istituzioni più geneuniamente europee e più legittimate, diciamo così, dal consenso democratico popolare, quali in primo luogo il Parlamento europeo e poi la Commissione. Faccio solo un esempio. Ieri leggevo un articolo del Presidente della Bay che diceva in modo molto allarmato che devono per forza chiudere i rubinetti a meno che si faccia un aumento di capitale. Cioè, la proposta che è stata ultimamente fatta per un fondo di garanzia più la ricapitalizzazione delle società che hanno esigenze in questo senso non può essere attivata se non si procede ad un aumento di capitale perché hanno raggiunto il top di quello che statutariamente possono erogare. Questo vuol dire che i governi si devono mettere attorno a un tavolo, decidere con i soliti meccanismi che ben conosciamo. Quindi è evidente che bisogna trovare un meccanismo diverso per rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini europei. Non possiamo, secondo me, affidarci all'evenienza di emergenze grosse come quella del Covid-19 per sperare che i governi europei si mettano attorno a un tavolo e si mettano d'accordo per fare il da farsi. Ci vuole finalmente il passaggio alla maggioranza qualificata, ci vuole il potere legislativo diretto del Parlamento europeo. Questo è ciò che penso dal punto di vista dello studioso e dell'appassionato di cose europee. Dal punto di vista invece dello scout e della persona che si trova a che fare con le emergenze della gente che possiamo trovare per strada nelle parrocchie che ci viene a chiedere da mangiare ogni giorno perché non ce n'ha più, non hanno più soldi, italiani e stranieri indifferentemente, e aumentano sempre di più. Io sabato scorso appunto stavo all'ennesima distribuzione di beni alimentari e di borsi alimentari nella città dove risiedo, all'Alessandria, ed è veramente una cosa che colpisce, che colpisce. Devo dire, ringraziamo Dio che esiste il FEAD, il Fondo Europeo per l'Aiuto agli Indigenti, che qualche persona improvvida in passato aveva cercato di ridurre l'umicino, anzi, forse sarebbe il caso di potenziare l'azione del FEAD in una situazione come questa. E tra l'altro mi sembra che nell'elaborazione del nuovo regolamento FSE Plus ci sia proprio uno spazio per un potenziamento per l'aiuto agli indigenti. Per concludere, lo scautismo certamente non può che definirsi europeo. Il nostro fondatore, Baden Powell, ha avuto la disgrazia di attraversare due guerre, di cui una purtroppo non l'ha potuta finire di vedere perché è morta nel 1941 in Kenya. Quando finì la Seconda Guerra Mondiale, scusate, la Prima Guerra Mondiale, si inventò lo scautismo raccogliendo le bande di ragazzini che nella Londra di allora vagavano, come si è detto senza nessuna offesa, agli chuscià napoletani durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli diede loro un fine, un progetto, spesse volte anche una casa da mangiare, da lavorare, eccetera. E quindi, addirittura, prima della morte, prefigurò la necessità, come il suo connazionale Winston Churchill, degli Stati Uniti d'Europa. Più modernamente lo scautismo è impegnato, e qui non parlo di un'associazione piuttosto che di un'altra, ma tutte le associazioni scout sono impegnate fianco a fianco con gli organismi dell'Unione Europea che si occupano di giovani. Erasmus+, tra l'altro, fornisce supporto a tutta una serie di eventi di formazione per i giovani di tutte le associazioni scout europee. Esiste un evento che si chiama Aurora Way, che ogni paio d'anni riunisce scout e guide di tutta Europa per riflettere sulle tematiche europee. Mi ricordo l'ultimo fatto un paio d'anni fa in Olanda, aperto dall'attuale primo vicepresidente Franz Timmermans, a sua volta capo scout a suo tempo, che in sette minuti seppe spiegare in modo chiaro e coinvolgente cosa potesse essere l'Europa per i giovani e cosa soprattutto i giovani potessero fare per l'Europa. Noi come scout cerchiamo di, anche qui concludo, educare a questo, cioè a far pensare ai ragazzi, sin da quando sono bambini fino a quando diventeranno un po' più grandi, a che cosa loro per primi possono fare per l'Europa, per essere dei buoni cittadini, come Baden-Powell voleva a suo tempo.